Sono diventata volontaria del gruppo donna perché ho trovato una casa, una famiglia. Ho iniziato la mia attività di volontariato presso il gruppo donna dell'Arcica in Milano da circa un anno. Ho fatto diverse esperienze di volontariato in vita mia e sono state tutte quante esperienze bellissime. Io sono volontaria perché siccome molte di noi hanno fatto l'esperienza bruttissima di non sentirsi accolte dalla propria famiglia, accettate per quello che sono. All'età di 30 anni mi sono ritrovata a capire che mi piacevano e potevo anche innamorarmi di una donna. Perché quando ho scoperto di essere lesbica pensavo di essere l'unica lesbica al mondo e mi sono sentita molto sola. Ho dovuto ricalcolare fondamentalmente gran parte della mia vita, delle mie sicurezze, di quello che ero io in primis. Nel mio piccolo, all'interno del gruppo donna, cerco di contribuire a creare questo spazio dove ciascuno possa sentirsi a proprio agio. Il mio intento è cercare che anche le altre persone provino la stessa sensazione, il potere esternare la propria interiorità senza paura. Quindi tramite queste esperienze di volontariato al gruppo donna vorrei aiutare altre persone che si trovano ora nella stessa condizione in cui mi sono trovata io tempo fa a non sentirsi sole. Nella speranza che possa essere utile ad altre persone. Ciao!